E' stato caricato e ucciso da un cervo, l'uomo, 61 anni, trovato morto in un recinto a Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia, dove allevava diversi animali. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava dando da mangiare alle sue galline che si trovavano nel recinto, quando si sarebbe accorto della presenza di una volpe. Per scacciarla avrebbe preso un fucile e sparato un colpo. Il rumore avrebbe però spaventato il cervo, probabilmente allevato nello stesso recinto, che avrebbe attaccato l'uomo uccidendolo. Secondo quanto riferito dai carabinieri, si tratterebbe di un esemplare molto grosso, particolarmente aggressivo in questo periodo, che è quello degli accoppiamenti. A dare l'allarme è stato un parente della vittima. Sul posto, oltre ai sanitari e ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma.